La festa patronale di Castel San Giovanni ha chiuso i battenti all'insegna del tutto esaurito. Nemmeno il caldo affoso ha avuto la meglio sulle migliaia di visitatori che hanno affollato la fiera delle bancarelle, ultima coda di una settimana di eventi che ha messo insieme spettacoli per adulti e bambini, eventi culturali come le visite guidate alle chiese di Castel San Giovanni, mostre come quella dedicata al mito del motociclismo, Valentino Rossi, eventi sportivi, tanta musica per tutti, giostre per i bambini, ma anche momenti solenni come la messa con il Vescovo e la consegna del Castellano dell'anno al contrabbassista Leonardo Colonna. Il taglio del nastro è stato un momento per ringraziare tutte le anime di Castel San Giovanni che hanno dato una mano nella non facile organizzazione del cartellone di eventi e nell'organizzazione della fiera con oltre 140 ambulanti. L'evento è stato preceduto dall'ultimo dei venerdì Castellani, altro affollatissimo appuntamento con cui i commercianti del centro storico hanno salutato l'arrivo dell'estate. I giorni dedicati al santo patrono sono stati anche l'occasione per ospitare in città la delegazione di Sluni, la città croata gemellata con Castel San Giovanni e gli amici francesi di Pont de Lisère. Ora, archiviato una festa spesso criticata per non avere una propria identità, ma che ora sembra finalmente aver acquisito una sua caratterizzazione, Castel San Giovanni si prepara la notte rosa, altro evento che il prossimo fine settimana promette di replicare i numeri da record della fiera.